Ultimo è Jacqueline Luna di Giacomo, dalla scintilla iniziale a una famiglia in arrivo. L'amore tra Niccolò Moriconi, in arte ultimo, è Jacqueline Luna di Giacomo, è nato in modo del tutto inaspettato, grazie a un colpo di fulmine che le ha travolti durante la pandemia. Tutto è cominciato quando il cantante ha notato una giacca disegnata da Jacqueline con un dettaglio particolare, una toppa a forma di chitarra. Intrigato, Ultimo le ha scritto un messaggio scherzoso, vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour quel primo contatto ha dato il via a una serie di incontri a Trastevere, durante i quali si sono conosciuti e innamorati, senza nemmeno il bisogno di un bacio. Jacqueline, che da sempre seguiva Ultimo come fan, ha condiviso questo sentimento speciale fin dal primo momento, supportando l'artista anche sui social. Nel marzo 2021, la coppia ha ufficializzato la loro relazione con una foto al tramonto, seguita da viaggi romantici documentati sui social, tra cui spiccano mete come Messico e Formentera. Nonostante voci di crisi, nel 2023, Ultimo ha sempre rivadito pubblicamente la profondità del loro amore. Oggi, con un figlio in arrivo, i due hanno annunciato un trasferimento temporaneo a New York, dove Jacqueline, vicino al parto, potrà vivere questo momento in serenità lontano dai riflettori.